A Sulmona scoppia la protesta dei cittadini, costretti a recarsi ad Avezzano per chiedere rinnovare il certificato per la raccolta dei funghi. Sul territorio della provincia dell'Aquila il tesserino viene rilasciato nell'ufficio micologico di Avezzano, avente sede nel distretto sanitario. I sulmonesi chiedono di attivare un presidio anche in città. Non è possibile che sul territorio provinciale il servizio sia attivo solo in Marsica, con evidenti disagi per i cittadini della Valle Peligna che devono fare chilometri per ottenere questa autorizzazione incalzano i sulmonesi. L'obbligo del possesso del tesserino per tutti gli abruzzesi che vogliono raccogliere funghi sul territorio regionale viene rilasciato dalla provincia di residenza dopo la frequenza di un corso di micologia di 24 ore. Oltre alla tessera occorre pagare una tassa annuale di 30 euro fatta eccezione per i raccoglitori abbiano compiuto 65 anni di età. I minori di 14 anni invece possono raccogliere senza tesserino a condizioni che vengono accompagnati da un adulto con i titoli del raccoglitore. Novità per gli appassionati extraregionali intenzionati a cercare funghi in Abruzzo che oltre al possesso del tesserino rilasciato dalla regione di residenza dovranno avere un permesso comunale valido uno o più giorni al costo unitario di 7 euro. Si possono anche cercare funghi senza la tessera se ci si dedica la raccolta micologica per non più di due giornate per anno solare dopo il versamento di una quota di 10 euro al giorno e a condizione che il raccolto venga visionato dall'AST per valutarne la commestibilità.